Bentornati a SOS Aghezzo TV, buonasera Beppe Marconi, siamo tornati nell'area dell'interporto Fantasma, siamo con Pila De Nofri che è il sindaco praticamente, se esistesse il comune di indicatore te saresti il sindaco? No, ti faccio una precisazione, che se c'era il comune indicatore e il sindaco non toccava a me farlo, stai tranquillo che con la concorrenza politica che c'è oggi a me mi facevamo subito fuori. Ma quanto ci pensano di guadagnare a fare politica? C'è stata una nota, c'è anche un'assemblea da parte dei residenti sui tanti problemi di indicatore, c'è stata una nota mandata ai giornali e televisioni che vengono sottoposti a una serie di problemi tra cui questo dell'interporto che abbiamo già fatto vedere credo un mese e mezzo fa o anche più, che questa è una discarica a cielo aperto ma vediamo delle cose che non c'erano l'altra volta, quindi qui aumentano, qui scaricano di continuo. Sì, è proprio quello il problema, dopo aver avvertito l'amministrazione, qui il problema ci hanno riportato come vedete voi dall'ultimo documento che avete fatto, ci sono altri tre cami, sicché basterebbe anche le camere di sorveglianza messa lassù dove è l'ortofrutticolo per vedere, perché qui ci viene i cami grossi, non ce li portano con la carretta queste cose. La notte quando vengono? Questo io stabililo quando vengono. La notte vengono dal buio, sicuramente. Sicuramente vengono dal buio, però è una cosa indecorosa e non vorrei che San Piasse... non si può accedere, ci vuole tanto a farle ragazzi, sono vecchi anche molto vecchi. Come ti dicevo, non ci sono soltanto le problematiche delle discariche, ma ci sono anche problematiche di tombini completamente aperti, veramente pericolosi. se ci va un bambino qua dentro, ci rimane, chi lo tira fuori? Sono tutti i piani. È successo in Spagna. Qui, chi lo tira fuori un bambino? Ma questi, specialmente, le possono essere portati via. Ma vedete il pericolo che esiste? Qui ci va due o tre ragazzi che vengono qui a giocare, ci possono affogare e se ne accogliono il giorno dopo. C'è una probabilità di cinque metri. Mica discorsi. No, siamo a uno stato, a un degrado di questo ambiente, il paese, premetto una cosa Farretti, per quello come è andato il mondo e le prospettive che volevano fare nell'interporto, meno male che si è fermato in tempo, perché se no qui ci poteva essere 20 capannoni e non si sapeva come farlo. E' meglio che stia a cielo aperto che una disgrazia con i capannoni, Marconi. Diceva che nel caso, ho visto come è andato il mondo, sarebbero rimasti inutilizzati, quindi logicamente, però ti devo dire una cosa, qui c'era una grossissima azienda che aveva fatto l'inchiesta, aveva fatto già i contratti per aprire i capannoni qui, l'azienda dell'Ugita dei Trasporti. Con tutte le tergiverizzazioni fatte dal Comune di Arezzo, l'azienda si è andata a terra a bracciolini e qui è rimasto così come è. Se c'era quell'azienda questo non succedeva. Io ora non so di punto preciso come stanno le cose, ma il terreno bisognerebbe che avesse anche una variazione di uso perché questa impresa qui è nata con i contributi della regione e della provincia e non ti consente di portarlo a mercato libero. No, no, lo sta facendo. Speriamo che facciano questa cosa, è l'unica cosa per poterla sbloccare. Lo stanno facendo questo, lo stanno cercando di sbloccare e appunto lo stanno cercando di portare libero perché se no c'è anche una problematica che se qui non va avanti il Comune dovrà rimborsare a questa società parte degli oneri di desproprio che ha pagato. Pensa un po'. Complimenti che tira, eh? Pensa un po'. Ma si poteva evitare questo strazzo? Si poteva evitare se la burocrazia non è quella che è in Italia. A quest'ora avevamo finito quest'area perché c'erano gente che potevano venire perché sicuramente se portavano una mega azienda come ti dico io che ha fatto già contratti avrebbe poi portato intorno a sé altre aziende satelliti e qui il problema l'ha già risolto. Comunque Marconi permettimi di fare un'osservazione e ti hai detto mega, io parlo di megalomani quando hanno pensato carezzo di fare un interporto perché se ti guardi Livorno, La Spezia, Ravenna, Napoli, Bari, questi dove hanno centri di viadotti, cose, qui siamo bloccati. Ti ricordi quando si voleva fare la strada di Fondavalle? Non ci riesce a accomodare il ponte della Terina? Guarda che il ponte di Fondavalle ci voleva quanto è il ponte Morandi di Genova perché se ti guardi la tratta scoperta che ha la Chiana in quel punto lì è una cosa da un chilometro e mezzo perciò qui si sta facendo. Ma la città ha una dimensione che doveva rimanere per questo. Meno male che l'edilizia, anche quella, si è fermata in tempo in questa città perché se no si costruiva altri 500 appartamenti, come ce ne va a fare? 130 qui a Pretantico, 380 li voleva fare, ti ricordi che gli arrivi il sindaco te, la Corizucchi. Ma chi li prendeva? Faceva fallire tutto alla città, quei pochi imprenditori fallivano tutti. Questo è il dramma di questa città ragazzi, che non si sa valutare. Io quando un giorno, ero in una trasmissione, dei vostri colleghi parlai di economia rotante e gli dissi, l'economia strutturale è un conto, ma l'economia è rotante. Qui bisognerebbe che ci fosse della gente competente che sapesse cosa occorre strutturalmente e quello che occorre per l'economia di mercato che ci sono di far girare. Perché quando tu hai fatto un capannone e speso soldi rimani lì, se te a un'impresa come io, una piccola azienda d'oro, gli dai 10 kg d'oro, quello lo fa girare 10 volte all'anno. Questa è la differenza che c'è tra l'economia stabile e l'economia rotante. Un'ultima cosa, a indicatori in questo comunicato si parlava anche della poca illuminazione, di altri problemi, tra cui la chiusura del sottopassaggio ferroviario che si trova nel mezzo del paese. Posso fare due osservazioni ancora. Una, le strade quando si fanno a indicatori. La toponomastica. Sì, la toponomastica delle strade. Siamo stati anche per quello. È tra i tre paesi in Italia che non c'è le strade. L'abbiamo detto, siamo venuti anche qui. E c'è un rischio anche di emergenza. Guardaci che noi abbiamo fatto anche questo. Ora parlo anche di un'altra cosa, quello che è il sottopasso. Io credo che tutti quando vengono a mancare di servizi e sollecitano tempestivamente. Io darei il tempo a quelle che sono le condizioni delle ferrovie per poter aggiustare, perché lì se passa una ferrovia e sotto non si sa... Ma è quello nuovo? No, quello vecchio. Quello vecchio. Quello vecchio che... Ecco, però dovrebbero cercare di avere, se nasce questa assemblea, qualche rappresentante che dica quanto dura questo lavoro, perché questo paese, tolto il passaggio a livello, tolto le cose, tra la ferrovia di qui e la ferrovia di là è uno dei paesi più disagiati che c'è nel territorio. Io ho pensato un po' così. Sempre è stato così. Grazie, grazie a Pila De Noferi, grazie a Pepe Marconi. Ci vediamo domani.